Transitare sulle A24 e A25 potrebbe costare fino al 375% in più, è quanto previsto alla voce entrate nel piano economico-finanziario presentato dal commissario Silvio Fiorentino, nominato dal Consiglio di Stato proprio per la stesura del PEF, atteso da quasi dieci anni. Secondo la bozza, la cui approvazione spetterà al Ministero delle Infrastrutture, ci saranno rincari di circa il 16% all'anno fino al 2030. Tra otto anni il pedaggio tra Pescara e Roma potrebbe arrivare a costare anche 100 euro. Così il piano non passerà, garantisce la deputata PD Stefania Pezzopane, che ha chiesto un'audizione del commissario alla Camera quanto prima. Le tariffe già oggi, nonostante grazie a un mio emendamento siano state bloccate per due anni, sono comunque molto elevate. Quindi è un piano economico-finanziario, dal mio punto di vista, irricevibile, perché carica sui cittadini ogni onere e questo è obiettivamente non ammissibile. Intanto poche settimane fa la Corte dei Conti ha svelato un contenzioso tra Anas e Strada dei Parchi. La società della Toto Holding è in debito per quasi 75 milioni di euro. Il governo sta considerando seriamente la nazionalizzazione delle autostrade che tornerebbero in capo ad Anas. Il ministero ha già inviato una nota al concessionario, ha detto la Pezzopane. Se la concessione fosse revocata, per la società del gruppo Toto si stima un indennizzo di 2 miliardi e mezzo di euro. C'è una trattativa in corso e anche su questo chiederei nell'audizione al ministro di avere un'informazione, perché in questa operazione ci vuole molta trasparenza e anche molta lungimiranza.